Se sei un imprenditore e credi che nella tua azienda la sicurezza degli ambienti di lavoro sia sotto controllo, allora stai guardando il video sbagliato. Se invece vuoi scoprire lo stato di salute della sicurezza nella tua azienda, ti consiglio di proseguire alla visione. Ciao, sono Luca, presidente del gruppo Remark, gruppo di società costruite per eliminare i rischi agli imprenditori in materia di ambiente, sicurezza e medicina del lavoro. Il nostro motto è pronto intervento sicurezza in due ore o è gratis. Dopo anni di esperienza nel settore della sicurezza, ho ideato un sistema scientifico per calcolare il livello di sicurezza nella tua azienda, si chiama rischiometro. È uno strumento molto veloce ed efficace, creato per gli imprenditori che, come te, hanno bisogno di risultati da misurare subito e in poco tempo. Perché dovresti fare questa verifica? Come avrai sicuramente letto in alcuni articoli di cronaca, se c'è un informatore, grave o gravissimo sul lavoro, il giudice incaricato alle indagini preliminari mette subito sotto sequestro la macchina incriminata o tutta l'area produttiva, un bagno di sangue che potrebbe mettere a rischio il futuro della tua impresa. Magari in questo momento stai pensando, quando e se capiterà ci penserò. Vero o no? Ma devi sapere che se mettono i sigilli ad una delle tue macchine, si blocca la produzione e di conseguenza dopo puoi solo iniziare a contare i danni. Perdita di fatturato, penali da pagare ai clienti per le consegne fuori termine, permette ai tuoi diretti competitor di aggredire la tua fetta di mercato e rendere un clima aziendale teso e nervoso. Dopo tutto quello che hai fatto per costruire la tua azienda, non sarebbe il massimo sogni e sacrifici svaniti in un attimo. Adesso cancella il dramma che ti ho descritto perché ora puoi controllare e verificare tutto prima che sia troppo tardi e che tu possa correre anche dei rischi penali. Il rischiometro è stato sviluppato attraverso un questionario molto semplice e veloce che ti permette di fare subito una prima radiografia della sicurezza della tua azienda. Questo ti permette di capire se ci sono delle criticità da risolvere e di verificare se il tuo attuale fornitore ha svolto bene tutte le attività in materia di prevenzione e sicurezza. Se poi questi argomenti ti interessano poco, veniamo ai numeri che sicuramente ti interesseranno di più. Se investi un euro in prevenzione te ne ritornano ben 2,2. È quanto sostiene una ricerca condotta dall'Issa, un'associazione internazionale per la sicurezza nei luoghi di lavoro che ha dimostrato che numeri alla mano la prevenzione ha un guadagno netto rispetto ai costi dei benefici pari a 2,2, il che significa che per ogni euro speso in sicurezza si ricava un utile almeno del doppio dell'investimento fatto. Sì, hai capito bene, mica male come redditività. Quel ritorno dell'investimento avviene per le aziende che considerano un asset strategico alla prevenzione e danno un'organizzazione e sicurezza dei lavori in regola. Cosa aspetti allora? Compila il modulo qua e scarica il questionario. In base alle risposte visualizzerai un semaforo. Verde, tutto ok. Giallo, ci sono dei rischi. Rosso, prendi i provvedimenti immediati. I vantaggi? La sicurezza è un tema importante. In caso di incidente, rischi, procedimenti penali, multe e sequestro dell'azienda. Grazie al rischiometro puoi subito valutare lo stato delle cose e prendere decisioni importanti per salvaguardare il tuo lavoro e la tua vita, non solo professionale. Cosa otterrai gratuitamente? Un vero e proprio report con le indicazioni di massima e l'evidenza del totale delle sanzioni amministrative che potrebbero essere applicate in caso di verifica nella tua organizzazione e, ancora più importante, i mesi e gli anni di reclusione per i mancati adempimenti in materia di sicurezza. Ti devo informare che il test rischiometro sarà disponibile gratuitamente per un tempo limitato, quindi ti consiglio di testare la tua azienda e l'affidabilità dei consulenti che ti stanno assistendo. Potrai trovare il test digitando sulla tua pagina web www.calcolailrischio.it